Musica Lisa, Ilenia Dio esiste? Assolutamente sì No Chi è il Dio? Dio è una presenza che dona amore e speranza Dio è un'invenzione dell'uomo Dov'è Dio? Nella mente e nel cuore dell'uomo Nell'immaginazione dell'uomo Perché le persone si affidano a Lui? Perché Dio dona speranza e quindi ci aiuta a vivere meglio la nostra vita Perché gli uomini sono deboli Perché uccidere in nome di Dio? Dio non si può assolutamente associare alla guerra e alla morte in quanto è vita, amore e speranza Perché si maschera dietro a Dio l'interesse dell'uomo Scienza e Dio, quale rapporto? Secondo me c'è un rapporto di complementarità in quanto sono semplicemente due modi distinti di vedere la realtà Non c'è nessun rapporto, Dio non c'è, quindi solo la scienza dalle vere risposte Cosa c'è dopo la morte? Un immergersi nell'amore immenso di Dio Nessuno lo sa, forse nulla Hai mai dubbi sulla tua posizione? Non ne ho mai avuti e mai ne avrò Mai avuti Cosa vorresti dire ad un ateo o a un credente? Che Dio essendo nostro padre non può essere assolutamente rilegato Come dimostri l'esistenza di Dio? Come dimostri l'esistenza di Dio